Non vogliamo annoiarvi ulteriormente, ma vogliamo farvi vedere come funziona il nostro parato escretore. Iniziamo dalle vene, che trasportano il sangue con alcune sostanze impure, che poi viene filtrato dai reni. E le sostanze di scarto ricavate diventano urina che passa per l'uretere e si deposita nella vescica, che poi viene espulsa nell'uretra. Volevamo dirvi che possiamo trovare alcune colorazioni dell'urina che sono dovuti a malattie o alle sostanze che assumiamo, come cibo, farmaci. In caso queste malattie si verificassero, bisogna andare subito dal medico e farsi visitare. E per finire, tra le malattie abbastanza comuni troviamo i calcoli renali. Grazie per la visione e speriamo di non avervi annoiato.